Il talento, la capacità e la forza di mettersi in gioco hanno portato queste aziende ad essere ultra trentennali in alcuni casi. Quindi veramente una grande emozione e un premio veramente meritato. Un territorio così piccolo è difficile dal punto di vista commerciale. La forte stagionalità mette in seria difficoltà qualsiasi impresa e quindi resistere e fare imprese in un territorio del genere, bello ma difficile come Ischia, è veramente una cosa difficile. E bisogna essere bravi e caparbi e che i signori che sono stati premiati lo hanno dimostrato ampiamente. Ovviamente è un punto di partenza questo, guardando a quello che c'è di saldo però si guarda anche al futuro. Certo, era un modo per farci conoscere, era un tassello importante da piazzare per dire alle imprese di Ischia che c'è un gruppo di persone di buona volontà che sta cercando di ricostruire il tessuto associativo. È sempre difficile fare associazione ed è ancora di più quando non c'è una squadra giusta e penso di averla trovata questa volta. Senti, l'intuizione di passare poi con le note e le canzoni di Salda Vinci, la giusta ciliegina sulla torta? Infatti il presidente Fiola conosce bene Salda Vinci, l'ha invitato e lui ha accolto subito in questo invito ed ci ha onorato della sua presenza questa sera. D'altronde lo ha detto cantando, io sono ischitano, sono residente ad Ischia di quelli seri, infatti sono un abituale e lo vediamo anche molto spesso passeggiare per le nostre strade. Sì, lui ha proprio casa a Ischia, quindi veramente è un ischitano d'adozione.